Sicuramente le immagini non rendono ma staremo qua tutto il giorno Ma non si può Buongiorno amici e benvenuti nella nostra seconda giornata di trekking Abbiamo il sole alle nostre spalle Il bivacco è lì Ci siamo incamminati Sono le 6 e 50 Oggi faremmo il monte Virais Che è un 2008 E poi vediamo il tempo che ci resta Cercheremo di fare ancora qualcosetta se riusciamo Se no la chiudiamo qua e facciamo un bellissimo anello Sentiamo un attimo Ariane Giangiangela Che è ancora addormentata e c'è ancora le caccole negli occhi Non è vero sono più sveglia di te Perché adesso ometto un piccolo dettaglio Guardate com'è Com'è leggiadra stamattina Ha molto male Molto molto male Qua fa frescolino Ma neanche troppo Quindi si cammina Ma non è vero sono più sveglia di te Ma non è vero sono più sveglia di te Ma non è vero sono più sveglia di te Momento National Geographic Channel solo per voi Adesso Ariane Giangiangela National Geographic Channel proprio E perché il canale Eh? Eh? Ah lo sai Va bene Comunque Passiamo Ci darò delle delucidazioni su il Soutron 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 Perché qua è in Francia Soutron Ho incontrato delle persone Ci hanno spiegato che Nel paesino qua vicino In Francia Mancava il prete Non c'era una chiesa E quindi in pratica I francesi Portavano i morti A seppellire qua Da noi A cosa? A Saretto A Saretto Nel cimitero di Saretto Per comunque dargli una degna sepoltura Ed è una cosa carina Che non sapevamo E ci ha fatto piacere sentirla E qua ce n'è veramente tanti di Fortini Sì Sia dalla parte francese Sia dalla nostra parte Ce ne sono veramente veramente tanti Bunker Fortini Bunker Fortini Tutta roba comunque È ancora in ottimo stato Quindi Adesso ci aspetta una bellissima attraversata Ve la facciamo vedere Andiamo in costa Su questa montagna E poi scendiamo dall'altra parte Qui Quiddettino Quiddettino Robe Cosa La Quiddettino Simba, tutto questo un giorno sarà tuo. Dopo esattamente un'ora di camminata... Un po' meno, meno di un'ora di camminata dal bivacco. Siamo a Punta Virais, che è un 2008-80, qualcosa così, e poi ci sono i taralli. Sono le 9.12, stiamo mangiando taralli, abbiamo mangiato un po' di pane bresaola per non farci mancare niente e lo spettacolo è veramente una cosa eccezionale, c'è una luce un po' soffusa, sicuramente le immagini non rendono ma staremo qua tutto il giorno. Ma non si può. Ma non si può. Dobbiamo andare avanti. Già. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'interior ritorno doveva essere una decina di chilometri e siamo a 5, siamo a metà, quindi andiamo a buttare il naso lassù, tanto non è lontano. No, non è lontano, secondo me ci metteremo andare e tornare un'ora. Eh sì, un'oretta andare e tornare, ma mezz'ora andare su. Quindi si può fare. Vedremo. Bene, ci vediamo direttamente in vetta e siamo arrivati in 20 minuti, ne avevamo detto mezz'ora, ma sono 20 minuti addirittura. Ne avevamo veramente tanto di più, pane e bresala stamattina ha fatto il suo effetto. E i taralli, vogliamo parlare dei taralli? I taralli al finocchio ci hanno aiutato. Sempre. Guardate, questo qua è stato tutto merito del tarallo. Siamo su Subeiran. Subeiran, dillo bene, Subeiran. La croce di vetta è bellissima. È molto carina. È molto 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 bella. Adesso ve la facciamo vedere. Molto bella. E io direi che adesso iniziamo la discesa. Fa anche un po' frescolino, ci sono le nebbiette. Ma si sta bene però. Sono le nebbiette. Bene, iniziamo a scendere. E io direi che sono le nebbiette. E io direi che sono le nebbiette. No? No? Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. La batteria è quasi morta. Va bene, volevo fare anche un primo piano lui perché se no mi dice sempre che non c'è mai nei video, non c'è mai nelle foto e allora non è che mi sento in colpa. Io volevo dire che sono di qua. Ma adesso stavo parlando io. Ah, ok. Adesso c'è il primo piano su. Ok, grazie. Visto? Visto? Bello? Bellissimo. E tutta la sua belletta. Esatto. Finisce con la nostra avventura. Finalmente abbiamo chiuso l'anello. Due giorni. Quattro ore e cinquantasei da stamattina. Siamo partiti. Puggerà nel settreno qualcosa. Sì. Il giro è veramente bello. Da fare in giornata si fa. Non facendo tutte le punte che abbiamo fatto noi perché comunque abbiamo fatto più di 20 chilometri di... In due giorni abbiamo fatto 22 chilometri. Sì, e contando che il primo giorno ne abbiamo fatti veramente pochi. Sì, perché per andare al Sartore ne abbiamo fatti sette e mezzo. Poi siamo andati a visitare il bunker, quindi poca roba. Il tempo ci ha accompagnati fortunatamente. Abbiamo sempre beccato bel tempo. Adesso è un po' nuvolo però meglio così, non fa neanche troppo caldo. Veramente bella. Un'esperienza che rifaremo. Però lasceremo passare un po' di tempo perché comunque è stancante. Non abbiamo dormito tantissimo quindi ci siamo girati tanto nel bivacco. C'eravamo solo io e lui nel bivacco. Siamo stati di più e era peggio ancora. Anche... Io ci ho male al braccio quindi il video finisce qua. Io ci ho piattato una raschiata di chiappa che non avete idea. Quattro culate. Una su una cacca perché la sopra ho scivolata. Una è scivolata su una cacca di mucca. Ho sbagliato a mettere il piede. Purtroppo era spenta. Era una di quelle occasioni che potevano essere le filmate della vita. Da paperissima. Esatto. Però... Qua niente. È andata così dai. Al prossimo video. Ciao a tutti.